buongiorno buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscola che non ha nulla a che vedere con gli altri tipi di ipnosi conformista commerciale l'ipnosi paura l'ipnosi fuffa l'ipnosi da spettacolo bla 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 anche se sono per certi versi buone nessuno dice il contrario allora oggi rispondo ad una signora che mi parla di tradimenti di amori cosa c'è per non soffrire più a causa del famoso lui di lui del mio ex fidanzato che mi ha tradita dopo 13 anni e se n'è andato con un'altra cosa posso fare io l'ho consigliato no relazioni negative un potentissimo mp3 dcs creato veramente con delle suggestioni potente che guiderà il tuo subcosciente a dimenticare il lato emotivo di sofferenza che lui o lei anche nel caso del lei ti sta causando in questo momento ricordati che non esiste nessun farmaco che elimini un ricordo nessun farmaco ok soltanto la tua mente può eliminare quel ricordo che cosa succede tu ti scarichi l'audio mp3 dcs no relazioni negative tra parentesi no ex amori te lo carichi premi play segui le istruzioni alla lettera che sono molto facili a prova di nonna a prova di pigro a prova di idiota non pensi a nulla e che cosa succede succede che tu ti ricordi di lui o di lei del suo tradimento del suo abbandono della sua volta gabbana del suo volta faccia eccetera però guarda caso come per miracolo come per magia come per incanto la magia della tua mente il miracolo della tua mente tu non soffri più non te ne importa non te ne frega ok io tantissimo tempo fa ho avuto una storia quando ero uno studente lavoratore senza una lira in tasca a modena vicino a milano ho avuto una storia con una ragazza francese è durata cinque anni 5 anni bene quando ho iniziato ci siamo lasciati di fatto adesso non vado nei particolari per un anno intero sono stato più di là che di qua ho sofferto come un cane ok eppure ci eravamo lasciati di come un accordo ma di sotto sotto io non ero d'accordo o il mio subcosciente non era d'accordo quindi ho sofferto come un cane come si suol dire all'epoca non conoscevo l'ipnosi e neanche soprattutto l'ipnosi di cs vera e professionale per cui per un anno per staccare la mia mente che cosa avevo scogitato senza senza aver studiato nulla e nessuno avevo studiato e che dovevo dovevo praticamente impegnare la mia mente a non pensare ok per cui dalla mattina alla sera lavoravo facevo tutto di più la mia mente non doveva girare a folle e funzionò per un anno dopodiché piano 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 ho dimenticato però ricordati se io avessi avuto lo strumento che si chiama ipnosi vera e professionale ipnosi di cs vera e professionale io l'avrei risolto in pochissimo tempo e senza effetti collaterali o strascichi va bene per cui se tu ti trovi in questa situazione perché sei stata tradita tradito mollato mollata e cornificato e chi più ne ha più ne metto pure abbandonato anche non vuol dire magari qualcuno o qualcuna ti ha lasciato non per forza nel tradirti perché non andava più d'accordo con te e stai soffrendo come un cane segui i miei consigli vai sul sito internet www.ipnologiasociali.com ti scarichi no relazioni negative no ex amori intesi in senso lato segui l'istruzione della lettera e vedrai che ritornerai a vivere a incontrare un'altra persona a tornare a sorridere ad essere felice più che prima ok come nei due giorni migliori fammi tutte le domande del caso visita la mia fanpage su facebook ipnosi e autoipnosi del dottor claudio saracino visita il mio sito internet www.ipnologiasociali.com iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzioni di cese del dottor claudio saracino e fai share condividi con amici parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita come è successo a me perché l'ipnosi di cese il metodo di cese funziona anche per un tuo caro una tua cara che non sono d'accordo ad essere aiutati quindi anche contro la loro volontà e questo è una delle caratteristiche che contraddistingue il metodo di cese dagli altri tipi di ipnosi conformista commerciale che si trovano in giro per il mondo quindi si può usare anche per chi non vuole di qualsiasi età razza sesso cultura religione e seguimi anche su instagram e twitter benessere ipnosi soluzioni di cese del dottor claudio saracino e conclusioni delle conclusioni ricordati io sto mettendo la mia faccia e a prescindere dal vendere perché non ho nessunissima intenzione di vendere e i miei supporti sono molto ma molto cari rispetto a ciò che trovi in giro perché sono altamente professionali e con delle suggestioni uniche al mondo tu però a prescindere dal sottoscritto siediti presso un professionista dell'ipnosi della tua zona se questi problemi che utilizzi però l'ipnosi l'ipnosi vera e professionale con la di maiuscola e inizia 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 poi devo girare cappelle non hai voglia di se stancato di vedere guru segui i miei consigli scarica di questo mp3 o altre mp3 che possono fare per il tuo caso o di te stessa di te stesso del tuo carro perché ce ne sono tanti di vario genere oppure scrivi un email associazione ipnosi associati che ti risponderanno ti consiglieranno per il meglio un bacio un abbraccio dal dottore claudio saracino e alla prossima ciao